Le sedi dei quattro quartieri si apriranno per la seconda edizione di A Scuola di Giostra, l'iniziativa portata avanti dai gruppi giovanili dei quartieri per ripercorrere la storia, le tradizioni ed i momenti salienti della Giostra del Saracino. Io dico sempre, i giovani sono un patrimonio, è un peccato tante volte marginalizzarli e non saperli ascoltare. Sono momenti di aggregazione che sicuramente servono e possono servire anche la città perché ricreano i legami con il nostro passato, le nostre tradizioni, quindi benvengano queste iniziative anche perché poi queste sono palestre, palestre per oggi i giovani ma che domani saranno gli uomini della Giostra o gli uomini della città. È bello sentire parlare di Giostra 365 giorni all'anno perché effettivamente negli ultimi anni si è sempre più presenti nell'arco di tutto l'anno con una serie di iniziative che coinvolgono quartieri, la città, tutto tondo e quindi benvengano iniziative di questo tipo. Quattro appuntamenti in programma dislocati nel cuore dei quartieri e di più un vero e proprio tour alla scoperta delle sedi dei gruppi storici. Allora, domenica 6 marzo a Porta Santo Spirito ci sarà una serata incentrata sulla storia dei costumi. In più noi vorremmo che questo dibattito finisse sul parlare della condizione dei costumi odierni. Noi a Porta del Foro domenica 20 marzo avremo la serata in cui abbiamo ospiti rappresentanti dei gruppi storici della Giostra, ovvero signareti, gli sbaglieratori e i musici della Giostra del Saracino. Noi invece a Porta Crucifera domenica 3 aprile abbiamo la Giostra Toribangiera e il Correr Giostra per l'amore del proprio quartiere. Invece domenica 17 sarà l'ultima serata presso il quartiere di Porta Santa Andrea e la serata sarà incentrata su quelle che sono state per noi le giostre più significative per ogni quartiere. Quinto appuntamento è domenica 8 maggio e con la guida Rachele Fusai per la seconda volta consecutiva ci andremo per le vie della città, ci andremo nelle sedi storiche del gruppo musici Signarezzi e gli sbaglieratori d'Arezzo.